Un nuovo inizio è a Montorio, si alza il sipario sulla ventunesima vetrina del parco. Dal 9 all'11 giugno, edizione straordinaria come simbolo di un territorio determinato a ripartire dalle sue eccellenze. L'inaugurazione con il commissario per la ricostruzione Vasco Errani. È un nuovo inizio per Montorio questo allora? È un nuovo inizio, purtroppo lo scorso anno non siamo riusciti proprio a farla. L'avevano a far agosto il terremoto di Amatrice, l'avevamo spostata a ottobre, abbiamo avuto l'altro terremoto. E quindi c'è stata l'inclemenza proprio del terremoto nei confronti del parco. E quest'anno abbiamo voluto sfadare subito il fato per rilanciare il nostro paese, per rinvigorirlo, per ridargli quella voglia di tornare ad essere quello che è stato una volta il paese di Montorio. La vetrina del parco torna a promuovere e a valorizzare cultura, arte, natura ed enogastronomia dell'intera area protetta, con mostre artigianato, convegni, attività per ragazzi, spettacoli ed eventi musicali. Insomma, l'Abruzzo è a Montorio. Ci sarà un momento clou? Ci sarà la presentazione delle guide di Repubblica? Sì, quest'anno l'abbiamo voluto all'interno di questa manifestazione di Montorio, la vetrina del parco, proprio per portare un'attenzione particolare ai riflettori di Repubblica, su Montorio, sulle aree interne, su questo territorio che tanto ha sofferto nel mese di gennaio. Noi dobbiamo investire molto anche in promozione per fare in modo che l'agricoltura dell'entroterra, l'agricoltura eroica che si sviluppa sulle nostre montagne, possa essere attenzionata, promossa e comunicata. È chiaro che quella della vetrina del parco è una manifestazione estremamente importante, centrale, dove si svolgerà una serie di eventi. Quest'anno sia il parterre di eventi che il parterre d'Erua, riferito ai personaggi politici, è particolarmente nutrito. Questo perché l'anno scorso non è stato possibile realizzare la manifestazione, quest'anno invece partiamo con uno slancio rinnovato. Nelle tre giornate saranno presenti con propri stand gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che hanno operato a Montorio nell'entroterra durante il terremoto e l'emergenza neve nel gennaio scorso per ripercorrere una storia di uomini e di montagna.